Il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, 85 persone uccise e 200 feriti. Presenti al corteo e alle cerimonie di commemorazione anche il sindaco del comune di Montespertoli Alessio Mugnaini e il comune di Castelfiorentino per commemorare le tre concittadine che persero la vita nell'orribile attentato. Per Diana Bivona di 22 anni allora residente a Castelfiorentino, Maria Fresu di 24 anni e sua figlia Angela di soli tre anni. Maria e Angela erano entrambe residenti a Montespertoli. Le tre vittime attendevano il treno per una vacanza sul lago di Garda nella sala d'aspetto della stazione. Per Montespertoli venire a Bologna tutti gli anni è un dovere morale e civile nei confronti di Angela e Maria che hanno perso la vita qui, di Verdiana, loro amica, che era in vacanza e con loro viaggiava per un weekend di divertimento. Dobbiamo ricordare questo momento, è tragico nella storia della nostra comunità e della storia d'Italia. Non possiamo non venire e quindi ogni anno veniamo volentieri a Bologna per non dimenticare e per portare sempre nel cuore il ricordo di loro.